Oroscopo del giorno. Giovedì 30 maggio 2024. Ariete. Amore. Questa sarà una giornata in cui l'amore andrà a segno. La posizione di venere sarà dalla vostra parte e potrebbe regalarvi emozioni speciali, anche se siete ancora single. Lavoro. Energie forti per questo giovedì di fine maggio. Marte e Giove saranno in ottimo aspetto. Toro. Amore. Un giorno difficile per tante relazioni per il fatto che venere sarà sfavorevole e le cose non andranno troppo bene. Un po' di attenzione nei rapporti sarà quindi fondamentale. Lavoro. Mercurio nel segno non potrà che darvi novità. Anche la buona posizione di Giove influenzerà la giornata. Gemelli. Amore. Questo sarà un giovedì di fine mese che vedrà protagonista di Giove. Il pianeta dell'amore e quindi anche le emozioni, i sentimenti. Pure i single potrebbero avere qualcosa in più oggi. Lavoro. Mercurio sarà in vostro favore e potrebbe portare non solo novità ma anche bei rapporti professionali. Cancro. Amore. La posizione favorevole di venere caratterizzerà il penultimo giorno del mese portando grandi situazioni nelle coppie o ai single che sono in attesa di fare una nuova conoscenza. Lavoro. Marte sfavorevole potrebbe portare tanta stanchezza e non poco stress. Leone. Amore. Questa sarà una giornata di fine mese in cui la posizione di venere sarà abbastanza buona. Per molti rapporti personali potrebbe arrivare un bel recupero dopo un periodo non semplice. Lavoro. Questo sarà un giovedì in cui ci sarà equilibrio e stabilità sul posto di lavoro. Vergine. Amore. Il pianeta dell'amore durante questa giornata non sarà in aspetto favorevole. In amore potrebbero esserci dei problemi e potrebbero esserci anche delle discussioni abbastanza animate e poco piacevoli. Lavoro. Giove in posizione opposta purtroppo potrebbe portare delle complicazioni. Bilancia. Amore. Il penultimo giorno del mese avrà una bella posizione di venere pronta a regalare emozioni, sentimenti ma anche passione e novità amorose. I single per esempio potrebbero fare conoscenze nuove. Lavoro. Niente male la posizione di Mercurio così come anche quella di Giove. Scorpione. Amore. Questo sarà un ultimo giovedì del mese in cui poter godere al massimo dei rapporti personali, degli affetti più cari. E lo stesso varrà per chi è single e vuole fare un incontro nuovo. Lavoro. Per il vostro lavoro questo sarà un momento interessante, con qualche bel colpo di fortuna. Sagittario. Amore. L'opposizione di venere non vi lascerà tranquilli nemmeno in questa nuova giornata di fine maggio. Purtroppo il pianeta dell'amore continuerà a portare non poche problematiche. Lavoro. Lo stesso varrà anche per il lavoro vista la contrarietà di Giove per voi. Capricorno. Amore. Questa sarà una giornata in cui venere sarà in una posizione abbastanza buona e favorevole. L'aspetto positivo potrebbe regalare qualcosa in più pure a chi è ancora single. Lavoro. Il giovedì di fine mese sarà un giorno in cui Giove e Mercurio saranno in posizione favorevole. Certo è che non si potrà dire la stessa cosa per Marte. Acquario. Amore. La giornata di oggi sarà difficile in amore per via delle tensioni e delle discussioni che potrebbero nascere in coppia. Attenzione quindi alla venere che sarà ancora sfavorevole. Lavoro. Giove, al contrario, potrebbe davvero portare qualcosa di interessante sul posto di lavoro. Pesci. Amore. La posizione di venere di questo penultimo giorno di maggio sarà in grado di regalare non solo emozioni ma anche romanticismi e passioni nei rapporti. Lavoro. Mercurio sarà in una posizione buona che potrebbe portare verso delle notizie davvero interessanti per il vostro impiego. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. Grazie.